Presentiamo una prima parte di un lavoro che stiamo facendo e che è sostanzialmente un lavoro che mira a riportare il decoro all'interno della città di Roma. Siamo al primo giro di Bo, abbiamo visto già e avete visto già i primi interventi effettuati in settimo municipio, abbiamo deciso di partire dalle periferie perché le periferie sono una parte importantissima della nostra città, spesso purtroppo dimenticata. Che cosa abbiamo fatto? Con la delibera 30 che ha predisposto il presidente Andrea Coglia che siede qui vicino a me abbiamo deciso di dare pratica attuazione alla delocalizzazione delle bancarelle. Che cosa vuol dire questo? Come sapete a Roma abbiamo tantissime bancarelle che occupano la maggior parte dei nostri marciapiedi. Marciapiedi soprattutto sulle grandi arterie di viabilità e impediscono la fruizione della città da parte degli utenti, da parte dei cittadini. Spesso i cittadini non possono camminare sul marciapiede, i commercianti si lamentano perché non riescono ad avere una buona visibilità delle loro vetrine. Abbiamo anche addirittura delle situazioni dove la deambulazione particolare è del tutto impedita. Pensiamo alle mamme o ai papà con le carrozzine, pensiamo alle persone che devono spostarsi con una carrozzina. Abbiamo poi dei problemi anche di visibilità perché ad esempio queste bancarelle sono collocate troppo vicino alle intersezioni stradali, agli incroci, quindi non consentono neanche una buona visuale per gli automobilisti. Quindi è partita di fatto un'operazione che mira a tutelare il lavoro, quindi nessuno di questi ambulanti perderà il lavoro, non è assolutamente il nostro obiettivo, ma verranno spostati in luoghi più consoni che comunque siano appetibili dal punto di vista commerciale affinché non abbiano un detrimento di quelli che sono i loro incassi. Quindi abbiamo sostanzialmente la riappropriazione della città, la ricostruzione della città in misura di cittadino, la tutela del lavoro che per noi è altrettanto importante e sostanzialmente una immagine di decoro che ricomincia a prendere corpo.